Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube Oggi Anzi no, stavo scherzando Siamo nel caffettino del Dostoevsky Ok, mettiamolo qua Vediamo se va bene così Sì che va bene, sì che va bene Mettiamo uno Jager qui raga Ehm Voi mi state dicendo Perché non porti più i GTA? Ragazzi Bella domanda Io ho provato a registrare GTA E ci ho messo 20 minuti per fare la lobby Ma bene E mi sono scocciato e me ne sono andato Basta Cioè raga Quando è troppo è troppo Comunque oggi come sentite Ha avuto uno spettacolare Ma bene Perché Diciamo qua Ho comprato finalmente il nuovo microfono Samson Meteor Mic ragazzi Il nemico ha trovato il contenitore di più rischio E' una fatta a trovare il contenitore Ma Attenzione E Chi spara questo? Vabbè Siamo tutti qua dentro Aspettiamo Aspettiamo raga Perfetto Quello è andato a trovare a Lucifero raga Nell'inferno Eh E basta sto bastardo Attenzione Attenzione che arrivano Bastardo Che prima categoria Come ha fatto ad arrivare là dietro Se quello mi stava coprendo a destra Venite all'istante Missione fallita Non mi ha fatto nemmeno vedere il replay Dai Secondo round ragazzi Questa volta cerchiamo Sono tutti sotto Nella sala lettura ragazzi Quindi cerchiamo di Distruggergli la faccia dall'altro lato Da qui no Lanciamo qualcosa Magari becchiamo qualcuno a casa Non becchiamo niente Bravo Strone partito Perfetto Non c'è nessuna Piazza la carica Attento Ash Nuovo caricatore Che quelli arrivano pure da sopra Quei maledetti Attento Ash Niente Boh Strano Quel cretino di pulso Non so dove sia Drone pronto a partire Andiamo così Qua c'è Tachanka Qua c'è Pulse Dove diavolo sta Pulse Che spavendo Si è spresentato qua come un cretino Meno male che c'era Ternite Sennò ero morto ragazzi sicuro Ed eccoci nuovamente di qua Con Caveira ragazzi Questa volta Cerchiamo di usarla per bene Ok Mettiamo qualche rinforzo da qua Spero che abbiano ricoperto la botola Altrimenti mi distruggo la faccia Poi Te mori E dai Vuoi morire Fammi sto regalo Mi vuoi fare questo regalo? Guardalo dov'è Vabbè Sai che c'è Non me lo fa Non va niente lo stesso Uh Scusa Pulse Bastardo Ti metti Ti metti davanti Allora Io me ne vado di sotto Ragazzi Precisamente Di qua Qua dentro E aspettiamo che viene qualcuno E' ora di agire ragazzi Attivo il sensore Via Vimmi dove sono Bastardo Boom Ho stato difficile eliminare il tuo colleghe Però mi sono divertita lo stesso Sto bastardo Twitch è di sopra Ah ragazzi Finalmente L'ho interrogato qualcuno Finalmente Finalmente Telecamera è fuori posto E andiamo a uccidere Quella bastarda Di Twitch I Hanno ucciso Pulse qua Dove cavolo è l'altro Bravissimo Bravo Pulse Bravo Pulse Eh stavo arrivando anch'io comunque Ed eccoci di nuovo qua Ho preso il capitano Vai spacca qua Drone pronto Vai Blackbeard Ho individuato i bersagli Beh e allora Drone pronto Tu mi provi a che Ma Perché Per quale motivo Qua c'è Capcan Ma Ma dai Come si fa Amori Dai Bravissimo Non morire Benissimo Ed eccoci di nuovo qua Di nuovo con Caveira Ragazzi Perché Voglio divertirmi Un po' Tanto siamo 3 a 1 Vogliamo Voglio divertirmi Ok Ma cosa chiudi Che devo uscire Cosa mi chiudi Quel drone Di 10 mi ha rotto Dov'è? Stardo Via Via Mi Che cavolo sono andati Come ha Fatto Allora ha incendiato lì ok E poi mi sono riposizionato lì Come al solito Ed eccoci con il sesto round Noi che siamo andati tanto belli tranquilli Prima diciamo vabbè siamo 3 a 1 Prendiamo di nuovo caveira che non so utilizzare Prendiamola Tanto Comunque raga sono nel museo ferroviario Quindi noi che facciamo saliamo Innanzitutto termite dove sta Ah beh di sotto Andiamo a vedere prima chi c'era qua Va bene Credo non ci sia nessuno comunque Infatti come si è voluto si è dimostrato Spacchiamo qui Così Boom Mandiamo un drone Ci vediamo chi c'è chi no C'è sledge Bene Spacchiamo di qua Carica da irruzione pronta Succede sempre così ragazzi Sempre così Rainbow è oramai diventato come FIFA Identico raga Identico Ogni volta che stiamo 3 a 1 O 2 a 1 O non lo so io raga Ogni volta che comunque la squadra avversaria Non è a 0 Ma è a 1 Recupera sempre Recupera sempre Non c'è una volta che non Recupera Che devi fare Devi entrare Dai Che palle oh Che sfiga però Ma che cos'è Eh dai Non posso uccidere uno Ma che schifo Dai Che partita Cioè manca un minuto E sono ancora tutti Quattro vivi Solo io sono morto Poi con uno Guarda guarda dove ho messo Quel deficiente La cosa aggrappola Dai Ma che diavolo Questa partita ragazzi Non è andata molto bene Dai Anche se Dai pulse Cioè 36 secondi E non si muovono Ma guarda che Guarda come non muore Ed eccoci con Twitch Questa volta Sono di nuovo Nel museo ferroviario Un'altra volta Come se non bastasse Ragazzi Perfetto Oh non danno Time Comunque È pur vero Che ho un compagno Di squadra Che ha fatto 10-1-3 Che È un mastro Raga Però Non mi diavolo sono Vai con il drone Vai con il drone Stordente Perfetto Qua c'è Ash Cambio caricatore E gli altri maledetti Dove sa E dai Perfetto Sembrava che si muoviva Non muore L'ho sparato Scusa possiamo vedere Un attimo il replay Dai però l'ho sparato Così dai No Ed eccoci qua Questa volta Con pulse Comunque Un'altra volta La partita Nono round Ragazzi Ma che cavolo Nono round Ogni volta Vabbè Attenzione Questo computer Già ma Che cavolo fa Questo Ho preso pulse Con la mitaglietta Perché volevo Portire i nemici Da lontano Ragazzi Io Me ne vado Da qua Buona fortuna Porta barricata E fate i bravi Da dove cavolo ha sparato Come ha fatto a scendere Ragazzi come ha fatto a scendere Era sopra Sì vabbè Era sopra Dai ma perché Solo a me Ste cose Cioè termite Era sopra Siamo a 15 secondi I difensori hanno eliminato Tutti i nemici Meno male che abbiamo vinto Cioè raga Non Non è possibile Una cosa Cioè Non Cioè non è proprio possibile Io ho 4-1-6 Così proprio Inspigabile In questa partita Davvero sono riuscito A uccidere uno Con caveira Interrogandolo Quindi Lasciate un bellissimo like Commentate Fatemi sapere La vostra opinione Ragazzi Cioè Gli avvisari di oggi Non erano niente Non erano niente Oro Oro Argento Bronzo Vabbè Commentate Fatemi sapere La vostra opinione Appunto Fatemi sapere Se il microfono È abbastanza Regolato Correttamente O no E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo